Bella a tutti, qui è Triface che vi parla e questa volta vedremo insieme le domatrici, nuovi mostri rilasciati per l'appunto anche con i banner e necessari anche per lo svolgimento della storia dei mostri, in questo caso l'ultimo mostro, proprio domatrice della bestia, quello d'acqua. Vi ricordo che per fare la missione 7 è richiesto dropparla, ma vedremo insieme il motivo del perché io non la consiglio. Delle tre domatrici la più forte, modestamente penso sia la rossa, abbiamo un meta rosso dove all'inizio abbiamo la fenice, paladina e adesso abbiamo la domatrice. Mi rendo conto che il meta sta cambiando, ma secondo me anche questa volta l'unità rossa è quella decisiva. In questo caso sono tutte e tre situazionali come sempre giusto che sia, però per quanto riguarda il pvp forse la rossa è quella migliore in off link. Vi ricordo che tutte e tre le domatrici hanno la particolarità di targettare l'obiettivo con meno hp e questo le permette di andare a cercare i carry. Quindi sono dei fighter, come potete vedere dal simbolo, ciò nonostante cercano di targettare sempre come se fossero assassini l'obiettivo con meno vita, in questo caso dovrebbe essere l'evocatore o comunque il carry, motivo per il quale potrebbero essere molto utili in pvp da non sottovalutare, proprio perché ignorano il tank. Altra curiosità delle tre domatrici, tutte e tre hanno questa passiva qui, ognuna delle tre stacca in un modo particolare. La rossa per esempio prevede di poter aumentare la sua passiva ogni volta che riceve l'immunità, la blu ogni volta che riesce a strippare un mostro e la verde ogni volta che riesce a mettere un effetto dannoso. Ora, delle due, quindi la blu e la verde, sono più difficili da far staccare come passiva. Quella più semplice è lei perché basterebbe mettere un mostro vicino che riesca a mettere immunity come shushu, come wusa e così via. Per questo motivo secondo me lei è ottima come unità perché riesce a staccare meglio la passiva, una volta staccata meglio la passiva, può avere più effetti con tutte le spell, dove oltretutto la prima spell riesce a far ricaricare la seconda, e oltremodo è l'unica che riesce a mettere il death break, e vi ricordo essere un debuff, un malus molto potente, a dawe, quindi vuol dire tutto il team nemico, questo la rende davvero distruttiva. La cosa più interessante invece, che volevo farvi notare, è il fatto che lei possa togliere gli HP massimi. Mi spiego meglio, se questa è buildata tutta in attack speed, quindi finalmente cominciamo a vedere delle rune speed necessarie per questi mostri, lei toglierà il 2% della vita massima dell'obiettivo come danno. Quindi vuol dire che oltre a fare un danno fisso, che è quello che può essere, insomma, in base comunque alla difesa del nostro nemico, a prescindere dalla difesa che questo ha, comunque se lei, che ne so, ha 200 di attack speed, lei comincerà al secondo a tirare 3 colpi che tolgono il 2%, quindi in un secondo gli ha tolto praticamente il 6% di vita. Questo è più o meno il ragionamento, immaginatelo a livello proprio matematico. Vuol dire che il 100% di vita quanto ci metterebbe in tot secondi a tirarlo giù, così dovete ragionarla. Per questo motivo, secondo me, l'unità rossa è davvero distruttiva. Invece, per quanto riguarda il blu, l'ho già detto, il fatto di dover togliere beneficial è molto compromettente, comprendo il fatto sempre che vadano buildate con l'attack speed per poter staccare meglio tutto quanto. È anche un'unità che riesce a mettere irrecuperabile ma con un tasso del 10%, e oltretutto se lei ha 5 o più di questa passiva, cioè prima che noi riusciamo a staccare 5 o più di questa passiva, dovremmo essere riusciti a strippare come si deve con questo personaggio, e vuol dire che altrimenti non potremo attivare la nostra passiva sull'autoattacco. Per me questa unità non è così forte per questo motivo. Tant'è vero che l'hanno messa nel libro dei mostri, come obbligo, secondo me, perché sarà già capita che era un'unità inutile, non so se... No, vabbè, io non voglio arrivare a distare i creatori, non voglio fare sta roba, però secondo me non è così buona come sembra. Vedete voi, io non la consiglio onestamente, solo per il libro dei mostri. Per quanto invece riguarda la verde, è abbastanza interessante perché lei è l'equivalente di Tiana. Se lei è buildata in attack speed, come giusto che sia, ha la possibilità di aumentare la barra definitiva dell'1%, se lei ha 5 o più stack. Io dico, mettere i malus non è così complicato, basta buildare efficienza, ma se questa è buildata con efficienza e attack speed, ma proprio tanto attack speed e anche con la nostra soleta, che mette altro attack speed pure come buff, quindi immaginate lei con delle rune a 200 attack speed, con una soleta che non fa altro che dargli attack speed, o con un croa che non fa altro che booster l'attack speed. Anche con un perna e così via, cioè, non perna scusatemi, con il grifone, vuol dire che lei non farebbe altro che caricare la barra ultimate. È molto utile per chi non ha Tiana, lo dico perché è successo di vedere persone che mi dicono, vabbè io non ho Tiana, la combo non la posso fare, vi ricordo che la combo erano Tiana, Verdeil e Argen. In questo caso, se non avete Tiana, potreste optare per questa opzione. Non è delle migliori, perché Tiana comunque carica un 20% di barra con una sola spell, questa invece deve stare a fare ogni singolo autoattacco, oltre al fatto che è l'1%, quindi dovrebbero staccare comunque 100 volte la passiva. Per questo motivo sì, potrebbe essere viabile a Tiana, ma non è la stessa cosa. Per questo motivo anche l'unità verde io non la vedo troppo bene, quella che vedo meglio è sicuramente la rossa. Io con questo ho terminato, se vi servono consigli o altro potete mettere un commento qui sotto al video, altrimenti potete continuare a vedere i miei video su YouTube. Grazie a tutti per l'attenzione e ciao! Grazie a tutti!